Renato Zero, i migliori anni della nostra vita, il Crystal History delle 8, bentornati qui su Crystal Radio Good Morning Milano, sono le 8 e 10 di oggi martedì 26 marzo. E diamo il benvenuto alla nostra ospite di questa mattina, ve l'ho detto prima si parlerà questa mattina di CPR e lo facciamo insieme ad Anna Camposampiero della rete Mai Più Lager, no ai CPR. Buongiorno Anna. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Ma grazie a te perché ci vieni a raccontare un po' appunto quello che succederà sabato qui a Milano e poi facciamo anche un bel ripasso che non guasta su cosa sono i CPR, perché dite di no e perché anch'io lo dico insieme a voi, sembra che sono di parte, ma insomma essere di parte in questo caso è essere parte della parte degli umani come dire e quindi prima diciamo velocemente cosa succederà sabato e perché appunto stai qui, dopo entriamo nel tema. Allora sabato 6 aprile a partire dalle 15, dalle 3, da Piazza Tricolore, la rete Mai Più Lager, no ai CPR, torna in piazza e invita tutte le realtà a farlo insieme a noi per chiedere la chiusura di tutti i CPR, quelli esistenti, e perché non ne vengano aperti di nuovi né in Italia, né in Libia, né in Albania. Ok, perché non ne vengono aperti, perché insomma l'idea di qualcuno invece di aprirne sempre di più. Sabato 6 aprile, giusto? Esattamente. Prossimo, dunque questo quello che viene dopo, dopo Pasqua, quindi vi fate la Pasqua tranquilli e poi potete, pensate come siamo anche secondari nostri qua che vogliono fare la Pasqua, ci sta, ci sta, dai va bene, ve lo facciamo fare. Ma è importante perché appunto prima di tutto la rete torna in piazza dopo un po' che insomma è giusto far sentire la prima voce anche alla luce di quanto adesso finalmente un po' di CPR forse, un po' si parla un po' di più forse, non abbastanza. Sì, purtroppo, nel senso che i CPR sono sempre stati un po' una cosa nascosta, no? A pannaggio dei militanti, a pannaggio delle persone informate. Noi sono cinque anni e mezzo che esistiamo come rete, abbiamo fatto un lavoro capillare per cercare di spiegare cosa sono e perché non dovrebbero esistere. Negli ultimi mesi sono diventati un po' più mainstream, se posso, comunque sono arrivati ai media mainstream in ragione di violazioni che noi abbiamo sempre denunciato, no? Penso a Corelli che è stato commissariato per le violazioni che noi abbiamo quotidianamente e costantemente denunciato fino ad arrivare all'ultimo morto di Stato, Osman Zillah, questo ragazzo di 22 anni della Guinea che si è suicidato al CPR di Ponte Galeria. Quindi, nostro malgrado, sono diventati più conosciuti perché finalmente la disumanità che accade lì dentro è emersa. È emersa, è emersa, non so da appunto voi siete anni che lo raccontavate, anche in momenti in cui magari era ancora più difficile raccontare perché non c'erano cellulari, adesso sappiamo che invece finalmente a Milano qualcosa si lascia fare, cioè poco, ma almeno abbiamo qualche immagine di questa disgrazia. Non per loro generosità, ma in virtù di un ricorso che è stato fatto dall'associazione Naga, che è una delle componenti della rete, che appunto non esistono dei presupposti normativi per cui le persone che sono rinchiuse all'interno vengano privati della possibilità di comunicare con l'esterno. Infatti il ricorso l'abbiamo vinto e Corelli è uno dei luoghi in cui il numero NOACPR, che è un numero telefonico SOS CPR, è attivo e questo ci permette di avere informazioni anche dall'interno. Ecco, allora facciamo un attimo un passo indietro. Ricordiamo bene che cosa sono i CPR e chi c'è nei CPR. Come mai una persona può finire in un CPR e chi sono questi migliori? Sì, perché noi parliamo di CPR come se fosse spuntato. Il CPR sono i centri di permanenza per il rimpatrio, questa sigla, questo acronimo, che negli anni ha cambiato nome, ma per chi ha fatto il liceo, Catullo diceva se è una rosa non si chiamasse rosa, profumerebbe lei di rosa. Quindi diciamo che da CPTA, che erano i centri di permanenza temporanea e assistenza, che diciamo in un moto di dignità la A è sparita praticamente subito, e quindi sono rimasti i CPT, diventati poi CIE, centri di identificazione ed espulsione. Nel 2017 l'allora ministro degli interni Minniti, con la Minniti Orlando, ha ripristinato, perché erano stati chiusi per fortuna, l'apertura di questi centri in cui vengono detenuti, nonostante a loro non piaccia, loro dicono trattenuti, le persone straniere prive di permesso di soggiorno. E sottolineo straniere. Questa si chiama detenzione amministrativa, che non è applicabile ai cittadini italiani. Quindi è proprio un razzismo istituzionale che rinchiude le persone sulla base della provenienza. Amministrativo perché appunto non c'è un processo, prima di tutto, non c'è un processo penale, c'è solo un illecito amministrativo che è praticamente come se io mi dimentico di rinnovare la patente, cioè nel senso di una cosa del genere, non pago la Tarsu, cioè il concetto è quello, no? Che non si fa, però nel senso può succedere. Può succedere, esatto. Infatti quello è il concetto. Negli Stati Uniti finisci in galera se non paghi le multe, appunto. Non diamo certi consigli. No, no, però comunque lì hai fatto qualcosa, diciamo. Invece qui, allora, la detenzione amministrativa in Italia non ha neanche di questo, stiamo parlando, non ha neanche il diritto di avere una norma effettiva propria, no? Si parla dell'articolo 14 del testo unico dell'immigrazione, in cui si dice che lo Stato italiano può trattenere, appunto, le persone, tra l'altro anche in maniera ironica, anche al fine di soccorrerle. C'è anche questa battuta, no? Ma può trattenere le persone al fine, appunto, di procedere alla loro identificazione e all'effettiva titolarità di permanere nel territorio italiano. Dice anche nel rispetto della dignità e delle condizioni igienico-sanitarie, eccetera, eccetera. Quindi questa è... Che sappiamo, invece, troppo spesso non essere state rispettate. E allora ne parliamo fra poco, andiamo con un po' di musica nel frattempo, perché poi su Milano c'è tanto da dire, c'è un commissariamento, c'è tante cose, e poi ricordiamo comunque anche l'appuntamento di sabato 6 aprile, appunto, con la discesa in piazza della rete mai più lager, no, ICPR. Andiamo un po' di musica e poi torniamo qui ancora con Anna Camposampiero. Michael Jackson, don't stop till you get enough. E noi non ci fermiamo neanche noi, perché andiamo a parlare con Anna Camposampiero della rete mai più lager, no, ICPR. Stavamo parlando proprio del CPR di Via Corelli a Milano, che nell'ultimo anno è successo praticamente di tutto, tra cui anche un commissariamento. Ma che cosa significa, e come siamo arrivati anche dopo a molte, molte richieste che avete fatto voi, no? Sì, il commissariamento significa, allora, bisogna fare un piccolo passettino indietro, i ICPR sono istituti dello Stato che non vengono gestiti dallo Stato, vengono esternalizzati, vengono appaltati ai privati, e questa è un'osservazione interessante, perché a nostro avviso preludono alla privatizzazione delle carceri. Quindi la prefettura fa dei bandi, assegna la gestione, la gestione vuol dire dar da mangiare alle persone trattenute, dare dei mediatori culturali, gestire l'infermeria quando c'è, quindi questa è la gestione. Milano, noi abbiamo denunciato, non solo a Milano, ma in particolare a Milano, il fatto che venisse dato cibo scaduto alle persone trattenute, che le condizioni igienico-sanitarie siano deprorevoli, che ci sia un abuso di psicofarmaci che vengono dati ai ragazzi, perché poi sono tutti uomini e sono tutti molto giovani, e l'abbiamo fatto ripetutamente, anche in virtù di alcune ispezioni fatte grazie a parlamentari o consiglieri, perché ricordiamo che nessuno può entrare nei CPR, la società civile fa veramente fatica. Alla fine, finalmente, l'anno scorso a novembre è partita un'indagine, ed è lì che siamo diventati più conosciuti anche noi come rete, che ha commissariato il CPR di Biacorelli, cioè ha tolto la gestione al gestore Martinina SRL, perché in realtà, non per la disumanità che noi riscontriamo anche nella gestione, ma perché ha violato il contratto per il quale era stata contrattata. Hai detto una cosa su cui siamo passati così in oscialanza, ma che anche quello fa capire, hai detto che sono tutti uomini. Perché non esiste la detenzione amministrativa per le donne? No, esiste, però... C'era stata a Roma, a Milano c'era stata, mi sembra all'epoca dei Ciel, la sezione per i trans, per le trans, perché io immagino la gestione delle donne sia più complessa, e più disumanità, cioè se maltratti delle donne fai meno bella figura, se maltratti dei ragazzotti giovani, magari con la pelle un po' più scura, insomma, l'opinione pubblica ci passa un po' più sopra. Cosa fa capire però come davvero è tutto molto lasciato così, a quello che succede nel momento, nel senso non ci sono leggi che lo definiscono, so che spesso vuoi dire che sono regolamenti che poi definiscono. Sono regolamenti prefettizi, sì. Non c'è una legge che dice si fa questo, si fa quell'altro? Ogni prefettura più o meno stabilisce come gestire le cose, ci sono dei CPR in cui i parenti, quando scoprono che i propri congiunti sono all'interno, riescono anche a avere notizie... Anche questo, quando scoprono che... Perché non c'è una comunicazione verso l'esterno, dire guardi signora Giovanna ha preso suo marito e qua, no. No, tra l'altro prima parlavamo di cellulari, pensa che per esempio a Gradisca i cellulari vengono trattenuti, vengono tolti ai trattenuti, scusate il gioco di parole, nelle prime 48 ore e poi vengono restituiti. Le prime 48 ore sono quelle che a te servono per chiamare un avvocato, per dire alla tua famiglia perché, permettimi, nei CPR si entra, entrano non solo quelli che arrivano con i barconi di cui ci raccontano, ma entra anche uno fermato per strada che magari sono 20 anni che vive in Italia ma ha perso il permesso di soggiorno per motivi... Magari perché ha perso il lavoro, che in Italia è strano, oppure perché ha un reddito troppo basso e finisci nel CPR. Tu hai riuscito a fare la spesa e non torni a casa. È successo anche questo nei CPR. E va dire, ecco, quello che raccontiamo non sono storielle, sono cose successe, perché voi con la rete fate spesso un lavoro molto importante che è quello di raccolta delle testimonianze e delle storie e poi di restituzione su noi cittadini, su noi giornalisti, anche su come appunto queste situazioni che magari uno può immaginare, non sono solo immaginazione, ma sono reali. Cioè, quello che esce va a fare la spesa, viene fermato, non hai più, per me stesso giorno non lo trovi, non ce l'hai, è scaduto, lo stesso... Niente, dentro. Finisci nei CPR, non si sa bene per quanto, o meglio, sì, ci sono dei tempi che nell'arco degli anni, nel 1998, quando nasce la retenzione amministrativa, il tempo 30 giorni, che già non è poco, che già non è poco, con il decreto piantedosi, perché noi ci rifiutiamo di chiamarlo con il nome della spiaggia, in cui sono morte persone, come vedi non la cito, perché è un'offesa a quelle persone, sono diventati 18 mesi, 18 mesi in cui lo Stato può trattenere le persone senza che abbiano commesso nessun reato. Un anno e mezzo. Un anno e mezzo di vita. Magari arrivando dalla Libia, perché poi permetti... Senza aver commesso un reato. Senza aver commesso un reato. Ma qui non c'entra niente il reato di immigrazione clandestina, quella roba lì, non c'entra assolutamente niente, non è legato a quella roba lì, no, giusto? Non c'entra nulla. È proprio o tu arrivi o io ti fermo, sei privo di documenti, privo di qualcosa che ti permetta, per quello che si chiama permesso di soggiorno, che ti permetta di rimanere in Italia. E allora ti parcheggio lì in attesa di capire se ti posso espellere, perché non tutti sono espellibili. Ah, anche questo, perché abbiamo degli accordi con alcuni paesi e con altri no. Esattamente. Perché non è che tu paghi il biglietto e lo mandi... No, c'è un accordo con il paese... Ci deve essere un accordo con il paese di origine o, come ha fatto lo Stato italiano in maniera molto più furba, con il presunto paese di provenienza. Quindi io posso deportare le persone in Libia anche se non sono libiche. Ah, perché io presumo che arrivino da lì. Presumo che arrivino da lì, esattamente. E con la Libia hai fatto un accordo per cui la Libia accetta molto volentieri questa cosa, immagino... Beh, ci sono dei soldi, e quindi... Investimenti italiani in quel punto. Va bene. Allora, adesso ci fermiamo un attimino per una piccolissima pausa, ma torniamo qui ancora con Anna Camposampiero e vi raccontiamo ancora meglio dei Cipieri e ancora meglio appunto dell'appuntamento del 6 di aprile qui a Milano, alle ore 15 in Piazza Tricolore. Madame, il mio amico insieme a Fabi Fibra, le 8.33 minuti, martedì 26 marzo, 331-78-53-555, sempre il nostro numero di Whatsapp. So che in questo momento forse siete un attimo interdetti nello scriverci, immagino. Non è facilissimo entrare nell'argomento, o meglio, accettare, io quello che non riesco a fare, accettare che sul suolo milanese, scusami se sono così, ritorno al mio, esista un luogo come il CPR. Non posso accettare che esista in generale, ma proprio che una città, la grande città di Expo, la grande città moderna, nel 2024 Milano, di qua e di là, le Olimpiadi e tutto, e poi abbiamo quello che a tutti gli effetti risulta essere un lager. E perché sono bravissimi a nasconderlo, nel senso che c'è una capacità di nascondere all'opinione pubblica. Noi sono cinque anni e mezzo che andiamo in giro a prendere a una a una le persone, a raccontare, e la maggior parte delle volte le persone non lo sanno cos'è, non sanno neanche dov'è, tra un po', e non sanno quello che accade. Di fronte a Corelli c'è un parchetto in cui portano a passeggio i cani. Come se ci fosse una cortina di fumo e di propaganda. Insomma, noi sappiamo come funziona in questo paese quando vogliono che una cosa non esca o una cosa esca. Quello che mi fa anche molto male, nel senso che fa male poi la politica, anche e soprattutto, è che in realtà, adesso siamo arrivati a questa situazione con questo governo, ma in realtà non è che i governi precedenti di altri colori abbiano fatto cose drammetalmente opposte. Anzi, tutto nasce da una legge del centro-sinistra, poi ci sono successi, sia a livello locale che non locale, sono passe di tutti i colori possibili e immaginabili, ma questo è rimasto, se non peggiorando, se non comunque diventando sempre più qualcosa di disumano, qualcosa di veramente di assurdo. Ma a Monte c'è proprio un problema di approccio al fenomeno migratorio che viene sempre vissuto come emergenziale. Se pensi che il governo Meloni vuol far costruire i nuovi CPR dall'esercito, noi abbiamo un esercito che è rinomato nel mondo per la capacità logistica, ti costruisce un ospedale in 24 ore, va dove ci sono i terremoti, però insomma il concetto di utilizzare l'esercito a cosa ti porta? A emergenza e a nemico. Quindi c'è questo modo di approcciare un fenomeno che nell'arco degli ultimi 25 anni sta diventando sempre più strutturale, e poi magari uno dovrebbe interrogarsi anche sul perché, no? Cioè le guerre che finanziamo, il cambiamento climatico, eccetera, eccetera. E invece di affrontarlo in termini appunto di fenomeno epocale viene affrontato in termini di costante continua emergenza, no? E questo è il primo presupposto. Poi, come dicevi tu prima, è bipartisan, cioè la pelle delle persone migranti è un prezzo elettorale, nel bene e nel male, che viene utilizzato da entrambi le parti. Alcuni in maniera più sfacciata, no? Il Salvini di turno o il Piantedosi di turno fanno il loro mestiere, diciamo, e quindi quello è. Però appunto la ritenzione amministrativa in Italia nasce con un governo di centrosinistra. La riapertura di Corelli a Milano nasce sotto Ministero. Minniti, c'è tutti i nomi. Il cammino è Turco-Napolitano, poi Bossi-Fini, poi Minniti, poi Salvini, poi Lamorgese, poi Piantedosi. Cioè in una perfetta alternanza, diciamo. Uno a uno, uno a uno. Binario quasi, in questo caso. Ricordiamo bene allora cosa succede però il 6 di aprile e che cosa possiamo aspettarci da questa manifestazione? Allora, io spero, dalla risposta che stiamo avendo, che sarà una grande manifestazione. Abbiamo avuto adesioni importanti come Mediterranea, come le Arci, come tutte le realtà che nell'arco degli anni lavorano su questo tema, come le realtà cittadine, i centri sociali, le reti di movimento, le singole realtà, soggettività politiche tendenzialmente extraparlamentari o comunque un po' più sensibili. Quindi io mi aspetto che ci sarà una bella manifestazione. Noi faremo delle azioni, avremo delle tappe tematiche, parleremo delle cose di cui ci occupiamo da tempo. Ci sarà uno spezzone del no CPR salute che è una sottosezione della rete. Perché è importante questa cosa? Noi parlavamo di 18 mesi, sono tanti. E quasi sempre, se tu entri, dopo 18 mesi non sei più la stessa persona, soprattutto a livello psicologico. Ma proprio anche medico a quel punto. E quindi c'è proprio una parte del CPR salute che è interessante. Cosa fanno? Sì, noi partendo dal presupposto delle violazioni che accadono all'interno dei CPR e uno dei diritti che vengono violati è il diritto alla salute, non solo perché le persone per essere detenute anche nelle carceri devono passare una visita medica che stabilisce se fisicamente, psicologicamente puoi essere privato della libertà e quelli che finiscono l'ICPR sono tutti idonei. Ottimo. Tutti. Cioè, proprio tutti. Poi noi li tiriamo fuori uno a uno con le segnalazioni al garante perché invece non è così, chiaramente. E in più c'è questo utilizzo smodato, comprovato, quindi non ho timore a dirlo, di psicofarmaci e psicofarmaci di peso tra cui Rivotril, Loxanax, Valium. E anche qui non sono cose che mi inventate voi perché poi quei poche notizie che escono ma anche a volte dei comunicati ufficiali che escono i medici che hanno lavorato all'interno lo dicono se noi diamo i psicofarmaci a coloro che sono qua dentro come se non ci fossero domani loro dicono c'è una grande richiesta di psicofarmaci poi vabbè bisogna capire se c'è la richiesta o c'è la somministrazione questo poi è un altro conto oppure dopo la somministrazione siccome diventi tossico c'è la richiesta bisogna capire quello diciamo che la maggior parte di questi farmaci sono farmaci che nella vita normale vengono prescritti da medici e vengono monitorati perché sono psicofarmaci appunto molti di questi possono anche indurre a idee suicidari e quindi questo magari spiega anche i tentativi di suicidio che non arrivano solo dalla disperazione di essere lì e allora c'è una sezione a partire da questo e a partire da quella che normalmente è la sensibilità di chi studia medicina o di chi fa il medico ricordiamo quando i medici si erano rifiutati di denunciare le persone irregolari che andavano al pronto soccorso abbiamo creato questa sottosezione no CPR salute che ad oggi vede più di un centinaio tra medici studenti di medicina si stanno avvicinando anche gli infermieri coinvolti proprio per denunciare da un punto di vista medico quindi non ideologico diciamolo quello che accade costantemente all'interno di questi luoghi o nel rinchiudere queste persone saranno anche loro ci saranno ci saranno anche loro vedremo anche di renderli diciamo riconoscibili non voglio fare spoiler però accadranno cose infatti accadranno cose non diciamo cose ma insomma pacifiche non preoccupatevi pacifiche legali tutto quello che volete andateci anche solo per curiosità mi viene da dire a questo punto cioè se soprattutto anzi forse ancora di più se non sapete bene di cosa stiamo parlando se siete andate siate curiosi domandate fate perché capirete davvero del perché c'è questa grande indignazione da parte appunto della rete mai più larga noi cpr e anche forse un'indignazione di cercare di svegliare sempre più coscienze è difficile quello difficile quello anche se ti devo dire tutte le persone con cui noi parliamo noi andiamo spesso nelle scuole per fortuna c'è sempre uno studente una studentessa che ci chiama rimangono a bocca aperta rimangono stupiti stupefatti da quello che accade nelle persone che sono nelle mani dello Stato perché poi è quello infatti stesso Stato che poi spesso e volentieri si autodefinisce illegale tra virgolette si dice no così non si andrebbe fatto perché il garante spesso e volentieri si è espresso in maniera negativa sui CPR sì però il giochino in realtà i CPR sono dello Stato ma la gestione non è dello Stato qui ti torno un attimo su Corelli è importante dirlo perché Corelli è commissariato ma non è una mela marcia noi non vogliamo che si pensi che il problema è il gestore di Corelli che non ha rispettato il contratto o il bando al quale ha partecipato è l'istituto stesso che genera queste cose genera queste violazioni genera gli abusi di potere la domanda è le persone che lavorano di dentro che gestiscono la sicurezza di dentro non lo vedono quello che noi denunciamo e questo è tutto un altro paio di maniche ma dopo capiremo anche questa cosa qui andiamo avanti con un po' di musica D'Argento Amico con Onda Alta 8.41 Minuti Cristian Radio Good Morning Milano fra poco D'Argento Amico Onda Alta e parlava di acqua alta l'acqua che ci divide anche dall'Albania perché parliamo di Albania perché appunto come dicevamo non è solo Via Corelli non è solo il gestore di Via Corelli non è solo quello è proprio l'idea che c'è la base di come va gestita l'immigrazione che andrebbe cambiata tanto che appunto il nostro governo ha proposto e anzi credo che al secondo punto si faccia ha fatto un accordo con l'Albania per creare fondamentalmente dei CPR a 5 stelle mi vorrebbe da dire ma non non per via del lusso ecco forse sì diciamo che drammaticamente non è un'idea della Meloni questa è un problema europeo perché insomma anche l'Inghilterra anche la Danimarca esatto qual è il problema il problema sono dal loro punto di vista le persone richiedenti asilo perché la normativa prevedeva prima di piante dosi che la persona richiedente asilo avesse un permesso di soggiorno in quanto richiedente asilo in attesa poi che la commissione definisse se ne aveva diritto o meno allora cosa succede che se la commissione ti nega l'asilo tu però sei qua sul territorio magari nel frattempo hai trovato un altro modo per rimanere nel territorio comunque non te ne vai quindi è un problema gestire delle persone che poi non se ne vogliono andare questo è il loro grande problema allora l'idea di andare a costruire un CPR fuori dal territorio italiano e in un territorio che non è Europa pur avendo aderito alle convenzioni europee questo è il punto chiave è il modo per dire parcheggio lì le persone se hanno poi titolarità le faccio entrare se no sono pronto a rimandarle indietro partiamo dal presupposto che nessuno di noi sa cosa c'è scritto in quegli accordi quindi quello che circola e quello che permettono di far circolare quindi anche non sappiamo i soldi in cambio la gestione ma la preoccupazione è appunto la gestione in questi luoghi perché perché se facciamo fatica ad avere notizie di quello che accade sotto casa a 4 km da qui immaginiamoci in un luogo peraltro sperduto la rete ha avuto dei contatti con la rete che si sta formando in Albania perché per fortuna l'umanità è trasversale per fortuna c'è punto esatto e quindi ci siamo già parlati stiamo cercando di capire di fornire noi la nostra esperienza loro la conoscenza del loro territorio perché ci dicevano in Albania in realtà ci sono già due centri di detenzione di cui non amministrativa di cui poco si parla ma anche loro sono preoccupati perché a noi dicono il centro verrà costruito dall'Italia verrà gestito dall'Italia la giustizia sarà quella italiana quindi è tutta gente che paghiamo noi che va in Albania un inclave esatto ma non si capisce per esempio se qualcuno scappa chi lo deve riprendere banalmente e poi appunto c'è anche questo meccanismo in cui ancora una volta è un centro solo per uomini quindi teoricamente la nave che raccoglie la nave della marina italiana che raccoglie qualcuno nel Mediterraneo va in Albania scarica gli uomini e poi torna in Italia quindi le donne e i bambini si fanno un altro giro prima di riuscire ad arrivare sulla terra ferma magari anche dividendone le famiglie infatti sono proprio quello sto pensando infatti quella è una prassi che portiamo avanti anche in altre situazioni cioè di dividere le famiglie esatto quindi è una fortissima preoccupazione oltre appunto all'ennesimo approccio al fenomeno migratorio adesso europeo stiamo parlando perché appunto uno pensa ma la corte di giustizia la corte dei diritti dell'uomo ma qualcuno dirà no perché il Parlamento europeo non è così in disaccordo frontex sappiamo anche che infatti l'Albania è in lista d'attesa per poter entrare in Europa vorrebbe tanto fare quel passo quindi vengono richieste all'Albania di fare certi passaggi ma è possibile che invece questo passaggio si possa fare comunque la prossima volta se vuoi mi inviti parliamo della Croazia che nell'Unione Europea c'è e che è il punto di stoppe di violazione dei diritti umani della rotta balcanica o parliamo della Polonia o parliamo dell'Ungheria vi assicuro che non è io ho avuto di passare un confine proprio al sud della Croazia quando praticamente finisce l'Europa e vi assicuro che con i militari italiani in quel momento molto probabilmente era un caso c'erano i militari italiani e vedere quella scritta frontex non so come mai i cartellino li cambiano non lo so e devo dire che effettivamente fa abbastanza specie capire che il nome è frontex da lì in poi basta non sei più in Europa non hai più certi diritti è abbastanza forte lo è forte per me che in realtà ero lì in vacanza farmi una bella vacanza immagino quanto sia per e li ho anche visti tra parentesi quelli che camminano lungo la rotta balcanica così che tu puoi dire se sono dei turisti invece no poi ti accorgi che sono persone che stanno solo cercando di andare a stare un po' meglio rispetto a dove hanno avuto la sfortuna di nascere Anna ricordiamo bene l'appuntamento siamo quasi in chiusura ricordiamo bene l'appuntamento all'ora del 6 di aprile dacci tutte le coordinate chi ci sarà cosa farete tutto quanto allora sabato 6 aprile a partire dalle 15 concentramento alle 15 a una manifestazione un corteo cammineremo in direzione del CPR ci saranno delle soste in cui cercheremo di raccontare anche in maniera visiva alcune delle cose che denunciamo da anni quindi quelle che i militanti chiamano azioni pacifiche ovviamente ma diciamo anche scenografiche i militanti le chiamano azioni i giornalisti flash mob ormai si usa sta stupidaggine si usa posso dirlo esattamente concentramento in piazza tricolore perché è vicino alla prefettura quindi è il luogo che rappresenta lo stato il governo nel territorio che noi identifichiamo come primo responsabile e poi mi preme dirlo ci sarà anche speriamo uno spezzone delle realtà palestinesi perché la detenzione amministrativa è qualcosa che in Palestina esiste da 75 anni da molto tempo noi non stiamo parlando del conflitto in questo momento ma proprio anzi della presenza di quel tipo di realtà di detenzione del punto di contatto cioè diciamo tra molti regolati dei CPR che ci sono anche là diciamo e poi insomma diciamoci che le guerre generano migrazioni e quindi sempre lì alla fine c'è sempre il CPR e quindi c'ha un suo perché costruire relazioni anche con altri tante realtà come dicevo che hanno aderito l'elenco l'abbiamo pubblicato sui nostri social non lo dico per non dimenticarmi qualcuno che sarebbe sempre poco carino e speriamo che soprattutto ci tengo la città risponda perché Via Corelli 28 quando era un CIE è stata chiusa in virtù delle proteste che i ragazzi hanno fatto dentro anche arrivando a cucirsi la bocca col fil di ferro ma fuori c'era tutta la città noi con il CPR di Corelli devo dire che facciamo un po' fatica abbiamo bisogno quindi della città Milano fatevi sentire 6 aprile a loro 15 piazza Tricolore e poi si cammina verso Via Corelli grazie Anna porto e salute a tutta la rete mai più lagga noi CPR che è stato qua spesso con noi siamo ben contenti di potervi aprire le porte del nostro studio quando avete delle belle iniziative da raccontarci grazie mille Anna davvero mi raccomando 6 aprile ore 15 piazza Tricolore perché è importante lo è importante per tutta la città per tutta la città per tutta la città